bentornati a best of oggi scopriremo le mete per chi ha voglia di respirare un po di aria di mare vi daremo tante idee di indirizzi preziosi per avere il meglio dell'italia a portata di mano e di weekend dalla costiera amalfitana andremo a capri e poi ancora in cilento la costa dei miti e delle bandiere blu un'antica stazione nel cuore di milano è oggi un boutique hotel dagli antichi binari camere e suite dai treni in partenza un lounge bar è un nuovo mondo che ha dato vita sotto forma di hotel alla creatività pura di una casa di moda italiana l'ironico onirico surreale e fantasioso moschino ha trovato in maison moschino non un hotel su cui apporre un semplice marchio ma un progetto da disegnare e concepire come fosse una vera e propria collezione di moda fior all'occhiello l'art spa un osi di piacere puro e lusso discreto furore praiano vietri sul mare in qualunque punto della costiera amalfitana ci si trovi sembra proprio di essere affacciati su una cartolina e una delle sue spiagge quella di positano è stata inserita nella top 10 delle spiagge italiane premiate dalla classifica travelers choice di tripadvisor facciamo un tuffo nel mare di una delle coste più suggestive del nostro paese facciamo un tuffo nel mare di una porta